Francesco Totti! Spacca la porta anche lui e riporta a due gol di distanza il Totti Sport ...che continua col possesso Romondini, Francesco Totti ha visto con l'Antoni un po' di campo con l'Antoni Molonna, dire no! Poi pallone per Totti! Centro Totti, testa alta per il numero 10, la sposta sul destro, Totti! Il poker del numero 10, tutto in parità! Grazie a tutti! Grazie a tutti! No, è vero! Grazie a tutti! ... Grazie per la visione!